Allora, vediamo dov'è. Silvia Mindelli, ingegnere, preoccupi di informatica e vi ho a Milano. Parlaci un po' del progetto Go2Women. Il progetto è nato da me e Flavia Maeschitz, dall'osservare che il progetto internazionale è comunque portato avanti il libro inglese, per cui in Italia può costituire limite per certe persone a doversi rapportare in una lingua che non è la propria lingua madre. Quindi io e Flavia abbiamo deciso di creare un'edizione italiana di un progetto che è internazionale, mondiale, a livello mondiale, che ha l'obiettivo in genere di portare più donne all'interno della comunità di un punto. E abbiamo declinato l'Italia per portare più donne all'interno della comunità italiana. Quali sono le speranze future di questo progetto? L'obiettivo è appunto quello di ottenere il maggior numero di ragazzi, di donne che ci subiscono a Ubuntu, ma anche tra gli utenti, quindi più donne tra gli utenti di un sistema operativo per il sole. Quindi uno dei significati di Ubuntu è reciprocità nelle relazioni. Relazione e collaborazione sono concetti legati alla personalità femminile più che maschile. Allora io non credo che ci sia una differenza così forte, però abbiamo modi diversi di rapportaggio con questo argomento, per cui le donne comunicano in modo differente rispetto agli uomini, quindi è carino avere uno spazio in cui le donne possano comunicare tra loro, nel loro linguaggio. E cosa fate di concreto per ovviare al problema della lingua? Allora noi di fatto riportiamo nella comunità, nella lista nazionale, le informazioni che passano nella lista internazionale, i progetti portati avanti lì, gli eventi che vengono creati. Oltre a questo, creiamo anche negli eventi locali. In un punto le donne che ruoli ricoprono? Hanno qualcosa di specifico? Ecco, in realtà non sono tutte concentrate nella stessa area, coprono un po' tutte le aree, quindi c'è una ragazza che è nel community council, quindi l'organo che gestisce tutta la comunità, un'altra che è il sales CEO della società che c'è dietro a Ubuntu, ragazza che si ha fatto di sviluppo, di documentazione, di promozione, di qualunque cosa. Quindi sono veramente delle geek girl, vuoi fare un appello a tutte le geek che sono qui? Se vi interessa l'office source e se volete provare un punto, scriveteci. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo da lui.